Buongiorno a tutti, la professoressa Bernardini che ringrazio molto per la sua partecipazione ci ha fornito un quadro generale, il mio obiettivo invece è andare un po' su quello che è l'impatto sull'agoconsumo, sicuramente sarà una grande trasformazione ma da gestire con cura, questa tecnologia trasformativa andrà a impattare diverse aree del nostro settore, ma permettetemi di iniziare con un inquadramento, quanti di voi pensano che l'intelligenza artificiale sia qualcosa nata negli ultimi 5 anni? Negli ultimi 10? Negli ultimi 20? Negli ultimi 70? Solo 5 hanno risposto bene perché in realtà John McCarthy che era un grande scienziato è considerato il padre dell'intelligenza artificiale e nel 1956, cioè quasi 70 anni fa, John McCarthy coniò il termine intelligenza artificiale in occasione di una conferenza negli Stati Uniti che aveva appunto l'obiettivo di capire come una macchina fosse in grado di ragionare come un essere umano. Quindi gli sviluppi sono partiti nel 1956. Chiaramente negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione esponenziale, quindi non è stata una rivoluzione negli ultimi 2-3 anni, ma è stata un'evoluzione esponenziale che è partita appunto dalla conferenza di Dormut nel 1956 e ha attraversato diverse fasi, dal machine learning, al deep learning, all'intelligenza artificiale generativa e quindi a CHGBT che ha causato questa esplosione di interesse. Qual è la differenza fondamentale? Che CHGBT sta portando, anche se Sara Bernadini ci ha spiegato con qualche limite, a una democratizzazione di questa tecnologia, quindi è una tecnologia che sembra per tutti. Chiaramente anche Nielsen lavora sull'intelligenza artificiale, per noi non è un qualcosa di nuovo, abbiamo più di vent'anni di esperienza, abbiamo un team di esperti, ma perché? Perché noi trattiamo miliardi, non so quanti petaflop sono, ma sicuramente tantissimi, lavoriamo in 100 paesi, quindi abbiamo dei team che da tanti anni stanno lavorando, abbiamo anche dei brevetti, abbiamo 100 ingegneri e ricercatori che come suggeriva Andrea Pontremoli seguono lo sviluppo di nuove tecnologie come il quantum computing, quindi questa capacità di trattare delle moli di dati impressionanti e peraltro anche noi avremo il nostro strumento di intelligenza artificiale che si chiamerà Arthur, dal nome del fondatore di Nielsen, Arthur Charles Nielsen e quindi saremo in grado di offrire il nostro strumento con le nostre informazioni a tutti i nostri clienti. Torno a Sara Bernadini perché ci ha fatto vedere questo studio McKinsey che riprendo anch'io, sostanzialmente lo studio McKinsey misura a livello globale l'impatto dell'intelligenza artificiale su tutti i settori del business, non del nostro business, tutti i settori del business. Bene il 75% di questi impatti ricade su sei tipologie di attività che forse riuscite a vedere nel grafico, quelle che ho cerchiato sono attività rilevanti per il nostro settore, quindi il sales, il marketing, la customer experience, l'innovazione, quindi lo sviluppo di nuovi prodotti, la ricerca e sviluppo, quindi possiamo affermare che sul nostro settore gli impatti saranno assolutamente massivi, molto più di altri settori e quindi dobbiamo muoverci molto rapidamente per cercare di gestire nel migliore dei modi il potenziale, l'enorme potenziale di questi cambiamenti. Quindi obiettivo di oggi è offrirvi qualche spunto di riflessione, devo ammettere che non sono un esperto di intelligenza artificiale, però è importante, quindi forse va meglio, in modo che ci riusciamo a capire meglio. Quindi l'impatti sul nostro settore, iniziamo a fare un esempio, se prendiamo l'area del sales and marketing, ad esempio SIP ci dice che il 76% dei consumatori è pronto a e richiede comunicazioni personalizzate, quindi comunicazioni gestite dall'intelligenza artificiale che in qualche modo le renderanno più umane, più personalizzate. Il 66% sono pronti a seguire i suggerimenti d'acquisto generati dall'intelligenza artificiale. Quindi per assurdo questi due esempi, ce ne sono tantissimi altri, questi due esempi ci fanno capire che la custom experience diventerà quasi, sarà umanizzata dall'intelligenza artificiale. Se parliamo di innovazione, beh qua ce n'è per tutti, sicuramente il processo di innovazione, di sviluppo di nuovi prodotti avrà una velocità diversa, molto più alta, suggerirà tantissime opzioni e porterà a idee dirompenti, quindi l'innovazione di prodotto subirà una grande accelerazione. Pensate che l'84% dei chief marketing officer ha già in piano, e magari lo stanno già facendo, ha in piano di lanciare prodotti con supporto della generative artificial intelligence. Ecco, poi parliamo della custom experience, quindi abbiamo già detto che andremo a rendere più umana. Per quanto ci riguarda, e qua è un esempio di una survey fatta da Garner sugli executive degli Stati Uniti, ci saranno grossissimi investimenti sul mondo del revenue growth. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di strategie di prezzo, parliamo di efficacia delle promozioni, parliamo di efficacia degli investimenti media, parliamo di razionalizzazione degli assortimenti, se ne è parlato tantissimo. Se poi parliamo della comunicazione end to end con i consumatori, anche qua si prevede di raddoppiare la crescita della produttività, ma soprattutto la soddisfazione dei clienti finali. Quindi è chiaro che questo porterà a una maggior fidelizzazione per chi arriva prima. Quindi proviamo anche ad andare a capire quali sono le opportunità, se andiamo avanti con lo slide, le opportunità per chi in qualche modo riuscirà ad anticipare il cambiamento. Vi do solo alcuni esempi. Sicuramente abbiamo parlato di innovazione più veloce, con la maggior varietà di opzioni, con idee dirompenti. Sicuramente per i global manufacturer ci saranno maggiori opportunità di recuperare quello che è un problema degli ultimi anni, recuperare e consolidare la fedeltà alle marche, alle proprie marche. Quindi che oggettivamente, come dicevo, è stato un aspetto di business abbastanza critico. l'abbiamo visto, l'abbiamo visto ieri nella presentazione di Christian Censonz e Mara Galbiati, è come certi cluster di consumatori, su certi cluster di consumatori lavorano meglio piccoli brand o private labor rispetto ai grandi marchi. Per i produttori, diciamo, locali, sicuramente quelli che riusciranno a giocare d'anticipo potranno utilizzare al meglio i social media, ad esempio. Ad esempio per fare campagne virali in maniera più facile e più veloce. Retailer. Qua parlo di retail online e offline. Quindi sicuramente potranno, se ne parlava ieri con Gian Giacomo Iba, potranno migliorare il consumer journey. Quindi grazie attività di retail media, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio, di retail consumerization, quindi andare a diversificare, a differenziare, andare più in precisione e, ancora una volta, e ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni, andranno sicuramente, andrà a migliorare quella che è la collaborazione più stretta con l'industria. Sara Bernardini ci parlava degli shopper assistant. Anche questo sarà un aspetto che aiuterà i player della distribuzione a stare più vicino alle esigenze dei clienti. Poi ci sono gli e-commerce player. Quindi sicuramente gli e-commerce player sono più avanti degli altri player, la personalizzazione aiuterà tantissimo, ci sarà la possibilità di offrire nuovi servizi e quindi potranno migliorare la loro performance, guadagnare quota di mercato, rendere più fedeli i propri clienti. Chiaramente chi gioca ad anticipo otterrà più vantaggi. Ma poi ci sono dei nuovi concorrenti, dei nuovi player. Aziende di tecnologia, aziende di social, diciamo, e poi ci sono i social media. Se andiamo indietro di una slide, grazie. Perfetto. Quindi quando parliamo di nuovi concorrenti, l'introduzione di quelli che dicevamo sono i digital shopper agent, quindi quelli che... niente, non riusciamo. Comunque i digital shopper agent andranno sicuramente a rendere più agili e a migliorare, come accennava Sara Bernardini, la product research. Niente, questa slide ve la faccio vedere il prossimo anno. Quindi ce ne sarà per tutti i gusti. Ricito Sara Bernardini perché bisogna stare molto attenti ai rischi. Vi parlo di rischi legati a quello che facciamo tutti i giorni. Quindi, allora, primo... Anch'io vi parlo di allucinazioni. Ho sentito tante aziende che dicono ma sto lanciando questo prodotto, sto studiando, ho lanciato una nuova campagna, sto cercando di usare l'intelligenza artificiale, c'ha GBT per la mia attività di marketing. Allora, l'accuratezza degli output è fondamentale. Mi spiego meglio. Dobbiamo lavorare su grandi volumi di dati, che peraltro Nielsen può offrire, su grandi volumi di dati di elevata qualità per evitare allucinazioni. Quindi, vediamo di non affidarci completamente all'intelligenza artificiale. Dobbiamo verificare che fonti diverse portano ad output consistenti, quindi che fonti diverse utilizzate in maniera integrata, che istruiscono i modelli di intelligenza artificiale, devono garantire degli output solidi. Poi c'è il problema della sicurezza, il problema della sicurezza e della protezione dei dati. Ci sono grandissimi rischi legali, legati a problematiche da un lato di privacy, abbiamo visto con Sara Bernadini degli esempi incredibili, e di sicurezza proprio del proprio dato. Pensate alla sicurezza, alla protezione dei dati aziendali e dei dati che scambierete con i vostri partner. Quindi parlo di industria, parlo di distribuzione. Quindi va comunque protetto. Ce ne sono molti altri. Quindi, senza andare attraverso tutti i punti, mi permetto di condividere alcune cose da fare. Oggi, da iniziare a fare oggi. Parlavo stamattina con Sara scrittore di come organizzarsi in azienda. Quindi sicuramente dobbiamo, come suggeriva Pontremoli, sperimentare, dobbiamo sbagliare, dobbiamo creare competenze, dovremmo stimolare la diversità di pensiero in questo caso. avere ruoli che collaborano diversi, ma che collaborano con competenze diverse. Quindi, sostanzialmente, come diceva Pontremoli, dobbiamo permettere alle nostre persone di sperimentare, ma anche di sbagliare. E sbagliare ancora. Permettetemi di concludere con il mio amico Gemio Voleva, che doveva essere qui con noi, purtroppo non è riuscito a venire, ma lui è il nostro massimo esperto di intelligenza artificiale. E lui sostiene che sicuramente il processo di democratizzazione aiuta, aiuta a migliorare l'accesso per tutti, però l'intelligenza artificiale nelle mani di persone esperte porterà dei risultati incredibili. Quindi, e genererà un vantaggio competitivo. Finisco citando Andrea Pontremoli. Quindi lui diceva, cambiamo pensiero. Pensiamo che la tecnologia, che la soluzione che ci serve esista, ma decidiamo cosa fare.